Buon pomeriggio amici della FWPA e di YouTube per la presentazione dei sorteggi della Coppa Italia. Come al solito il sorteggio è affidato a Joao Peppe86, il montaggio video a Bomber9 e la voce che vi accompagnerà è quella di Jay Flauti. Non perdiamoci in chiacchiere ma andiamo subito a mostrare la struttura di quella che è la Coppa Italia di quest'anno. Ogni incontro avverrà di mercoledì, qualora le squadre fossero impegnate all'interno del circuito europeo dell'FWPA, vedi Champions, vedi Europa League, le partite saranno posticipate al giovedì. Ogni squadra dovrà scendere in campo con un minimo di 8 giocatori e quindi il QLS sarà obbligatorio. Saranno due gironi come potete vedere, le prime due passeranno, si affronteranno in semifinale e in caso di pareggio sia per la semifinale che nella finale si deciderà fino ai rigori e automaticamente vedendo il regolamento verrà aggiunto soltanto un gol in più alla squadra che vincerà i rigori. Le squadre che si affronteranno all'interno della Coppa Italia saranno le seguenti Izem Clan, Element Reforge, Volcano Gaming, Blackout Esport, Odyssey FC, PT Academy, Figli di Sultana, The Bulldog Team, Mastini e Madre Patria. Siamo stati molto veloci perché adesso è il momento di assistere ai sorteggi, vedremo i gironi cosa ci daranno. Andiamo subito subito ragazzi, ricordiamo che la Coppa Italia partirà il 27 marzo, quindi segnatevi subito questa data, squadre interessate e non. Prima squadra sarà la PT Academy che andrà nel girone A. Si parte con grande velocità ragazzi. La seconda squadra invece è Figli di Sultana che accompagnerà il PT Academy. Lo disse i FC, girone B, quindi apriamo anche il girone B. Element Reforge, girone B, ricordiamo ogni girone avrà minimo 5 squadre, 5 squadre da una parte e 5 squadre dall'altra. Terza squadra, Zeng Clan nel girone A, quindi 3 squadre momentaneamente per il girone A, 2 per la B. Mastini accompagneranno il girone A, che è quasi completo quindi. Madre Patria, scusatemi, FC, andrà invece a occupare un posto nel girone B. Ormai siamo agli sgoccioli. La Volcano Gaming invece andrà a completare il girone A, che quindi si è completato. E automaticamente nel girone B andranno Blackout Sports. E attendiamo sempre dal sorteggio l'ufficentale, la Bulldog, The Bulldog Team. E allora si sono aperti i gironi, si è aperta quindi la Coppa Italia. Non ci resta che attendere sui campi di calcio il 27 marzo le due squadre. Nel frattempo allora il nostro Gio Peppe sta comunicando la fine dei gironi. E a noi non ci resta che aspettarvi quindi sul capi il 27 marzo e invitarvi, come al solito, a seguirci sui canali di Twitter, Discord, il nostro sito www.fqpa.net e il nostro canale Facebook. Allora ragazzi, a presto eh! Mi raccomando, seguiteci!